Salve a tutti popolo di Youtube e benvenuti in questo nuovo video, siamo DiabloTV e volevamo avvertirvi che stiamo per terminare gli esami e che questo video è un video, diciamo, un ringraziamento per le 500 visualizzazioni che abbiamo riaggiunto sul vecchio video delle imitazioni che è stato pubblicato l'estate scorsa Spero che questo video vi piaccia, lasciate un mi piace e buona visione! Benvenuti in questa fiera della imitazione eccezionale Filman, il cameraman, molto sexy, Andrea Mutri, ci sono tanti ospiti, Mughini Se n'è andato Pardo Pure lui Vasco Rossi, ciao Vasco No, vedi Ligabue Non c'è Giovanotti Vuoi cadere la cazzola? Tiziano Ferro Oh, sono andati tutti Fabio Chedessa E' andato via E' Beppe Perlum E' ci sono io Antonio Conte E' Silvio Broscoli Portiamo Benvenuti a Tiki Daga Tiki Daga Tagli ospiti, Mughini, 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 Mughini Vedi le zizze, le zizze Sono anch'io eccezionale Fabio Chedessa, Fabio Chedessa, incredibile Che fatica la vita da bomber Che fatica la vita da bomber Del Piero Del Piero Del Piero Alex Del Piero 1 a 0 1 a 0 Vero Fabio Un ottimo tiro Diciamo che Questa c'è un'occasione Sotto diciamo Vero 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 Che fatica la vita da bomber Eh ragazzi C'è un'azionale Fabio Chedessa E' da lui Attenzione Arriva lui Il più atteso Il CT Stasera città La Croazia A proposito Portogallo Portogallo CR7 Numero Padolino Fermo Che ce frega Nello messi Noi abbiamo Padui Padui Ma non gioca CR7 Eh C'è un'azionale Comunque Una sciopolata E ora Entra lui Il più atteso Il CT Al telegold Antonio Qual è il tuo Cosa vuol dire Essere allenato Nella C'è un'azionale Italia Allora Essere allenatore Dell'Italia Ecco per essere un po Diciamo Criticato 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 Qua siamo tutti Viste Dal primo All'ultimo Io ti difendo i miei giuratori Io ti difendo i miei giuratori Ok 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 C'è un'azionale Affermazione incredibile Stasera Tu dici il dubbio Ti giocherai in attacco E in fascia Innanzitutto Fatiga Se vuoi Poi Il attacco Gli rappagno Giocherà Lui Il più bravo Zappacosta In faccia Mettiamo lui Zaccato Dopo Il suo esorio Il suo esorio In porta E in difesa Metteremo L'attaccante Zalza 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 Atenzione Adesso Sono di Milano Ho dell'Inter Ho dell'assalto Ho del Burkina Faso Io ho del Brunzi Io volevo dedicarmi una canzone Su 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 le mani Su le mani Chi sa Questa sera Mi infilavo I frutti di mare Nel culo Successivamente Ho preso Gli scogli Gli ho spaccati E mi sono grattato Un sederino Tre amici Da picchiare Gelato San Montana Mazzona Toscana Ho manzato Il gelato Da Gianni Mazzona Mazzona Batti Panni Sciamolata Mettete un like A I Diavolo TV Mi stanno lavorando Per voi Incredibili Con le chiappe Di Carbonaro E poi Scommentate Abbiamo finito gli esami Non è vero Siamo durante gli esami Proprio nel centro Nel centro Nel centro Nel centro esami 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 E comunque Like For Diablo TV Se avete uno smartphone O un tablet Ovviamente Medeset Connect Per interagire con lo studio Di Massimo Calegari Per interagire con lo studio